Il più venduto è dei 12 mesi. Sentivi o senti delle aspettative su questo nuovo progetto? Ma io cosa ti posso dire? Mi auguro che il pubblico ascolti questo album per ripercorrere, continuare a percorrere questa bellissima strada, che è la strada dell'avventura, dei colori, dell'amore, che è quello che io continuo a dire, a parlare, a cantare da sempre. Quindi se avete comprato il duetz e avete voglia di continuare questa avventura, con duetz forever noi continuiamo e possiamo continuare. Mi aspetto questo, insomma, che il pubblico abbia voglia comunque di continuare e di cantare ancora con me. Diciamo che dall'ospitata come super ospite a Sanremo, poi con l'album lo stesso anno, quantomeno una certa parte del pubblico ha iniziato a ascoltarti, a vederti in un modo diverso. Certo, certo. Qual è il tuo bilancio da questo punto di vista oggi? Che sicuramente tanto pubblico che magari non mi comprava più, perché ormai aveva le mie sigle, o magari pubblico che non mi conosceva, che mi ha riscoperta o scoperta, si è aggiunto e quindi ha voluto sentire questa Cristina d'Avena che canta le sigle dei creatori animati e ha voluto ascoltare questo progetto. Ecco perché, secondo me, tanto pubblico si è aggiunto, diciamo, al mio mondo che già esiste, che già c'è, perché si è incuriosito da questa Cristina che canta le sigle da una vita e che magari o non ha mai ascoltato, o magari non si ricordava più, o quindi è stato curioso e ha comprato il disco, quindi ecco, questo è. Torniamo a cantare insieme, allora. Torniamo a cantare insieme. Grazie Cristina. Grazie a voi, davvero, grazie.